Musica Tutti noi ignoriamo quanto la natura sia capace di dolore quando le si impone un dolore. Ecco perché in natura non esistono che ossari. Nella storia poi solo camere di tortura e cimiteri. Da questo nasce quasi un senso di schifo sia davanti ai piccoli quanto ai grandi torturatori. In un'epoca nella quale i bambini non sono più bambini. Musica 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 Dai! Dai una pesada! Dai, fuma! Dai, dai! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.